I signori di Sverevo, in 1300, aveva fatto questo vip per fuggire alla malaria, alla peste. Tutti moriranno e loro erano tornati, capito? Qui ci troviamo, esattamente, dal pozzo Earl, attivo fino a 1950, ha una profondità di 160 metri, potete notare i vagomenti, a me c'è l'accento di colore e poi qui insomma.